Il vincitore di X-Factor è Marco! E la volta, la tv menandria va a Marco Mandoli! Vedi, si rimane in piedi, anche se tu non ci credi, dimmi, a cosa vuoi sapere? Il vincitore di X-Factor è Marco Mandoli! 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 Il mio solo destino, posso soltanto amarti, senza mai nessun terreno! Il vincitore di X-Factor è Marco Mandoli! 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 Il vincitore di X-Factor è Marco BEC title.